Nel corso di anni di esperienza ho maturato la convinzione che una fotografia fuori fuoco possa avere fondamentalmente due cause. La prima è un'errata impostazione della fotocamera stessa, la seconda ha invece a che fare con la velocità a cui si muovono i soggetti che stiamo fotografando. Ma allora come mai intorno a questo tema c'è ancora così tanto dibattito? Ricevo infatti diversi messaggi di persone che mi chiedono come possono fare a rendere più nitide le proprie immagini. Nel corso di questo video andiamo a esaminare tutti i motivi che possono portare a una foto fuori fuoco o con un micromosso e andiamo a vedere come è possibile aggirare le problematiche per avere ogni volta scatti perfetti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. Io vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché andremo a esaminare tutti i motivi che possono portarci a una fotografia fuori fuoco o comunque con un micromosso. Procederemo in ordine per cui ho messo per primi i motivi di facile soluzione per arrivare alla fine ai problemi per cui la soluzione può risultare anche molto complicata. Prima di procedere io vi invito a supportare questo canale con un like a questo video, l'iscrizione e l'attivazione della campanella in maniera tale da rimanere sempre aggiornati e ricevere altri tips and tricks come questi. Andiamo a incominciare. Ovviamente menzione d'onore do per scontato che tutti quanti abbiamo attivato la messa a fuoco automatica sul nostro dispositivo. Nel momento in cui scattiamo con una fotocamera che ha la messa a fuoco automatica disabilitata ci credo che le foto vengono fuori fuoco. Cominciamo subito con il primo motivo. Ora dovete sapere che la messa a fuoco dei dispositivi foto e video, la maggior parte perlomeno, funzionano a rilevamento di contrasto. Questo significa che vanno a cercare delle differenze nella nostra immagine. Vanno a cercare delle differenze di colore, di luminosità, di texture. Vanno a cercare qualcosa su cui potersi agganciare. Ecco quindi che nel momento in cui andiamo a inquadrare un qualcosa che è privo di contrasto, privo di texture, privo di dettagli, ecco che il nostro sistema di messa a fuoco può trovarsi veramente in difficoltà. Un ottimo esempio potrebbe essere un cielo senza nuvole e senza nessun dettaglio. Un altro ottimo esempio potrebbe essere un muro bianco senza neanche un piccolo segnetto illuminato in maniera uniforme. Sono soggetti su cui una fotocamera qualsiasi normalmente fa fatica a focheggiare perché gli mancano quegli elementi per stabilire dove si trovi esattamente il punto di messa a fuoco. In questo caso la soluzione migliore probabilmente consiste nell'utilizzare il fuoco manuale oppure nel mettere a fuoco un qualcosa che si trova alla stessa distanza di quello che stiamo fotografando e poi ricomporre la nostra inquadratura. Uno dei motivi più frequenti in assoluto che generano fotografie con mosso, micro mosso o sfocature varie è un'errata impostazione della fotocamera stessa. Che cosa voglio dire con questo? Nel momento in cui noi andiamo a scattare una foto dobbiamo impostare dei valori di shutter. Che cosa voglio dire con questo? Nel momento in cui andiamo a scattare una foto se stiamo lavorando in modalità manuale dobbiamo andare a impostare tra le altre cose un valore di shutter. Ora è buona norma impostare questo valore a seconda di quello che stiamo facendo. Per esempio nel video io sto girando a 24 fotogrammi al secondo e quindi tengo uno shutter di un cinquantesimo. Questo è uno shutter che va bene per moltissimi scopi ma per esempio non è l'ideale se vogliamo fare una fotografia a una persona perché un cinquantesimo di shutter si presta un pochino al micromosso. Ogni minimo movimento della persona potrebbe risultare in una fotografia mossa. Quindi lo possiamo usare ma solo se la persona sta perfettamente immobile. Non possiamo usare un cinquantesimo di shutter su una persona che parla o gesticola per esempio. Lì dobbiamo andare da un centoventicinquesimo in su. Sarebbe meglio arrivare anche a un duecentesimo. Allo stesso modo non possiamo riprendere un corridore a un centoventicinquesimo o a un cinquantesimo. Dobbiamo andare tra un cinquecentesimo e un millesimo di secondo. Probabilmente anche qualcosina in più se vogliamo essere sicuri. Normalmente con un millesimo di secondo io mi trovo assolutamente a mio agio a fotografare sport. Però esistono diversi casi in cui questo non basta e bisogna ridurre ulteriormente i tempi di scatto. Se stiamo fotografando wildlife o formula 1 non parliamone poi. Lì spesso e volentieri è necessario arrivare praticamente al massimo a fine corsa. Ovvero a un quattromillesimo o a un ottomillesimo di secondo. Sono tempi che non si usano quasi mai. Però se stiamo fotografando azioni incredibilmente rapide sono assolutamente obbligatorie. Altrimenti la cosa che noi stiamo riprendendo verrà sempre mossa. Che sia un'automobile, che sia una persona, verrà sempre mossa e sfocata perché si muove così veloce che un tempo di shutter dilatato non è sufficiente per catturarla cristallizzata. Per cui dobbiamo andare a diminuire i tempi di scatto. Sempre un'errata impostazione della fotocamera ha effetti negativi sul nostro focus anche se stiamo riprendendo una natura morta, una macro o un paesaggio. Perché se impostiamo il nostro shutter in maniera errata saremo noi stessi a introdurre un movimento all'interno dello scatto che ci porterà ad avere una fotomossa. Ecco perché dobbiamo utilizzare la regola della focale che stiamo utilizzando. Per cui se stiamo scattando con una focale con un certo numero, per esempio 18 mm, dovremo scattare almeno al doppio di quella focale. Questa è un'ottima regola, adesso ci sono gli stabilizzatori, quindi diciamo che la regola non è più così universale, ma è sempre bene tenerla a mente. Se io sto scattando con un grandangolo da 18 mm, dovrei scattare diciamo almeno a un quarantesimo di secondo se sto scattando a mano libera. Se sto scattando con un 100 mm dovrei scattare almeno a un duecentesimo, almeno. Perché se sto scattando con un 200 mm non stabilizzato, idealmente se riesco a scattare a un duecentocinquantesimo, a un trecentesimo è anche meglio. Vado a tamponare il rischio che un movimento prodotto dal mio corpo vada a muovere la camera proprio nel momento dello scatto. E tenete conto questa è una cosa che isula dalla nostra volontà, perché noi possiamo stare fermi quanto vogliamo, possiamo essere esperti quanto vogliamo e possiamo avere la mano ferma quanto vogliamo. Ma ci farete molto più caso se state utilizzando una lente zoom o un teleobiettivo molto lungo. noi respiriamo e il nostro cuore batte e queste cose vanno a introdurre un movimento che sarà tanto più accentuato, tanto quanto più la nostra lente è lunga. Per cui dobbiamo ricordarci di questa regola, perché se stiamo scattando con un fisheye da 8 mm probabilmente non si vedrà il micromosso, ma se stiamo scattando con una lente macro con un 85 mm, con un 135 mm questo sarà molto più evidente e quindi dobbiamo ricordarci di impostare correttamente i tempi di shutter. Lo shutter non è l'unico elemento che può produrre una foto fuori fuoco, infatti dobbiamo stare attenti anche al diaframma. Nel momento in cui noi andiamo a impostare un diaframma sbagliato, un diaframma per esempio troppo aperto, la nostra immagine ne risentirà e avremo un soggetto che non sarà completamente a fuoco. Per esempio se stiamo scattando con una lente da f1.2, quindi una lente con un'apertura molto grande, tendenzialmente queste lenti sono 50 mm e 85 mm, quindi delle lenti che si prestano bene per i ritratti per esempio. Se io sto facendo un ritratto di una persona con un 85 mm e sto scattando a f1.2, quindi a massima apertura, probabilmente nella mia immagine il naso della persona sarà fuori fuoco, sarà a fuoco l'occhio e l'orecchio di già sarà fuori fuoco. Quindi avremo una profondità di campo così ridotta che solo una porzione minima della faccia del nostro soggetto sarà a fuoco. Questo può essere un effetto artistico se sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo che è un rischio, sappiamo che dobbiamo scattare una serie di immagini per portarci a casa quella buona e sappiamo che qualcuna verrà fuori fuoco. Ma se siamo un po' inesperti o se è comunque un evento, quindi una cosa dove non possiamo ripetere gli scatti, dobbiamo catturarli giusti subito come potrebbe essere un matrimonio, la cosa migliore potrebbe essere di chiudere un pochino il diaframma. In questo modo non solo avremo una profondità di campo più pronunciata e quindi prenderemo maggiormente a fuoco il nostro soggetto. Ma nel caso si tratti di un evento, avendo una profondità di campo maggiore avremo anche maggiore margine di errore. Quindi se per sbaglio mettiamo a fuoco la punta del naso invece dell'occhio, l'occhio non sarà fuori fuoco e quindi la foto non sarà inutilizzabile, ma avremo comunque una porzione di profondità di campo tale da avere comunque una foto decente anche se la nostra messa a fuoco non è precisissima sull'occhio ma è sul naso o sulla fronte. Sempre parlando di impostazioni della fotocamera, dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle fotocamere hanno diverse impostazioni di messa a fuoco. Noi possiamo infatti programmarle per mantenere il punto di messa a fuoco una volta che abbiamo premuto il tasto di messa a fuoco, quindi nel momento in cui mettiamo a fuoco a una certa distanza finché non rilasciamo il pulsante la messa a fuoco rimane a quella distanza, oppure possiamo impostare la fotocamera per variare la distanza di messa a fuoco mentre stiamo fuocheggiando a seconda di quello che facciamo noi o a seconda di quello che fa il nostro soggetto. Questa è una funzione che si chiama tracking. Nel momento in cui io fotografo in modalità tracking una persona che cammina verso di me, la messa a fuoco si sposterà insieme alla persona che sto inquadrando. Queste sono due modalità molto diverse. La prima, quella con il punto di messa a fuoco fisso, ci permette di fare focus and recompose, quindi noi possiamo mettere a fuoco a una certa distanza e poi spostare l'inquadratura e la nostra messa a fuoco rimarrà a quella distanza. Nel secondo caso, se io metto a fuoco e poi ricompongo, il punto di messa a fuoco cambierà. Per cui devo tenere conto del tipo di fotografia che sto facendo e decidere quale delle due modalità devo utilizzare. Perché se per esempio sto facendo ritratto e faccio focus and recompose, ma ho il tracking attivo, mi sballa tutto. È importante impostare la fotocamera in base a quello che stiamo facendo, quindi è importante conoscere approfonditamente le capacità di messa a fuoco e le varie opzioni di messa a fuoco del nostro device. Siamo arrivati al momento in cui vi parlo male dello scattare in automatico. Ebbene sì, perché scattare in modalità automatica può servire in certi casi, ma la maggior parte delle volte, oltre a rendere le nostre foto molto piatte e molto impersonali, perché ricordiamoci che quando la macchina fotografica scatta di testa sua non usa delle impostazioni nostre personali, ma usa delle impostazioni tali da darci un'esposizione il più delle volte corretta, però appiattendo tutti i valori, quindi senza più creare qualcosa, ma semplicemente catturando un'immagine a caso. Proprio la casualità delle impostazioni ci fa ricadere in una delle prime casistiche che abbiamo già visto, ovvero quella di valori errati. Nel momento in cui noi scattiamo in automatico è possibilissimo che la nostra fotocamera, per darci più luce, ci dia un diaframma troppo aperto, quindi con una foto che poi risulta con una profondità di campo troppo sottile e quindi con il nostro soggetto non perfettamente a fuoco. Così come è possibile che per darci un'esposizione corretta la nostra fotocamera cd a dei tempi di shutter troppo lunghi, per cui va bene scattare in automatico? No, non va bene, però diciamo che si può fare. Meglio ancora se scattiamo in priorità di diaframmi, così abbiamo un semi-automatico, però almeno in priorità di tempi possiamo stabilire i tempi da utilizzare, lasciando poi all'automatismo della camera di gestire gli altri parametri, però quantomeno decidiamo che se stiamo fotografando una persona in una posizione statica possiamo usare un 125esimo, un 160esimo, se stiamo scattando un corridore usiamo un 500esimo, se stiamo scattando Formula 1 usiamo un 2000esimo. Almeno i tempi riusciamo a deciderli in questo modo, altrimenti siamo veramente a rischio che la camera da sola non capisca lo shutter necessario per scattare la nostra foto mantenendo cristallizzata l'azione. Ci sono poi dei problemi legati all'illuminazione, per esempio io ho riscontrato che diverse delle mie fotocamere fanno molta fatica a mettere a fuoco quando si scatta in controluce, per cui se io avessi il sole alle mie spalle per esempio e si provasse a focheggiare su di me con il sole dietro, quindi io sarei in ombra e il sole sarebbe dietro di me, la fotocamera potrebbe fare fatica, soprattutto se io mi spostassi e lasciassi che il sole picchiasse direttamente contro il frontale dell'obiettivo, perché in questo caso andrebbero a generarsi delle luci parassita, dei flare, che andrebbero a interferire con il corretto funzionamento della messa a fuoco. In questi casi esistono diverse soluzioni, si può mettere una mano davanti al vetro dell'obiettivo per parare la luce del sole, mettere a fuoco, poi togliere la mano e scattare normalmente, oppure si può cercare un'altra posizione di scatto, oppure si può mettere a fuoco manualmente, quello funziona sempre. Nel momento in cui andiamo a realizzare uno scatto non dobbiamo dimenticarci che la costruzione dell'obiettivo che stiamo utilizzando ha dei limiti, per cui tutti gli obiettivi hanno una messa a fuoco che termina sull'infinito, per cui andiamo a mettere a fuoco da un certo punto fino a infinito, però l'infinito è molto lontano e quindi non ci crea problemi. Invece la distanza minima di messa a fuoco ci crea dei problemi. Ecco che se noi andiamo a fuocheggiare troppo vicino al nostro soggetto, più vicino della distanza minima di messa a fuoco, ecco che sarà impossibile mettere a fuoco perché il nostro obiettivo non è in grado di mettere a fuoco a quella distanza. Quindi dovremo allontanarci per avere una corretta messa a fuoco. Ce ne accorgiamo di solito perché c'è una spia che lampeggia, un qualcosa che ci segnala all'interno della nostra fotocamera che la messa a fuoco non sta riuscendo perché il soggetto appunto è troppo vicino. Quindi dobbiamo decidere di allontanarci e eventualmente rifilare la nostra foto successivamente in post produzione. Esistono dei limiti tecnici anche per quanto riguarda la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. Infatti per quanto i sistemi siano progrediti e stiano ancora progredendo nel corso di questi anni, abbiamo ormai delle fotocamere che riescono a fuocheggiare in ambienti pressoché completamente bui, però i miracoli non esistono per cui in un contesto completamente privo di illuminazione o comunque con illuminazione insufficiente, alcuni dispositivi faranno molta fatica a mettere a fuoco. Ecco perché molte fotocamere hanno una lucina, un assist che serve per illuminare la scena per quel tanto che basta per mettere a fuoco il nostro soggetto. Un altro ausilio che possiamo cercare sono delle teste flash speed light dotate del sensore, quindi anche queste mandano un raggio talvolta ancora più potente di quello semplicemente abbinato alla fotocamera che è in grado di aiutare la messa a fuoco. Ovviamente in certi casi tutto questo non è possibile o semplicemente non funziona. Mi ricordo per esempio quando sono andato di notte a fotografare le lucciole, la messa a fuoco automatica era completamente inutile. Quello è stato uno dei contesti di messa a fuoco più difficili della mia vita e lì l'unica cosa da fare è stata giocarsela manualmente tirando un po' a indovinare, magari guardando la distanza. Insomma la tecnologia fa quello che può ma in certi casi dobbiamo saperci arrangiare. Dobbiamo anche essere bravi a capire quando stiamo mettendo in difficoltà la nostra strumentazione. Teniamo sempre a mente che per quanto i sistemi di messa a fuoco moderni siano fulminei e scattanti c'è un tempo preciso che serve alla nostra lente per focheggiare, soprattutto se partiamo dal capo opposto. Quindi se abbiamo da poco focheggiato su qualcosa di molto vicino e andiamo a spostare la nostra fotocamera su qualcosa di molto lontano, la fotocamera ci metterà un po' di più ad andare da un estremo all'altro, quindi a mettere a fuoco da un estremo all'altro. Se invece stiamo fotografando due cose vicine nello spazio il tempo di messa a fuoco sarà minore. Dobbiamo imparare a distinguere questo tempo perché nel momento in cui noi andiamo a premere il bottone di messa a fuoco e premiamo immediatamente lo shutter è possibile, soprattutto su dispositivi non scattanti, è possibilissimo che noi andiamo a scattare la foto prima che la messa a fuoco sia terminata e questo risulterà sempre in immagini sfocate perché semplicemente noi stiamo scattando la foto prima che l'operazione di messa a fuoco sia terminata. Per cui impariamo ad ascoltare la nostra fotocamera in contesti silenziosi così ci ricorderemo quali sono questi tempi tecnici di messa a fuoco e sapremo sfruttarli anche in ambienti poi rumorosi dove non riusciamo più effettivamente a sentire la nostra fotocamera in azione ma dobbiamo ricordarci come performava quando la potevamo percepire. Parliamo ora di ordinaria manutenzione del nostro dispositivo fotografico. Un frontale dell'obiettivo sporco ovviamente produrrà delle immagini non proprio a fuoco inoltre potrebbe anche trarre in inganno il sistema di messa a fuoco con il risultato di produrre delle immagini ancora più sfocate. Questo è facile da verificare perché è sufficiente controllare proprio a vista l'elemento frontale del nostro obiettivo per determinare senza ombra di dubbio se è sporco e ha bisogno di una passata oppure se è in stato ottimale. Purtroppo e dico purtroppo vale la stessa cosa per l'attacco della baionetta infatti la nostra lente ha due estremità. Nel caso il frontale dell'obiettivo fosse pulito ma le nostre immagini continuassero a presentare una sfocatura inspiegabile possiamo provare a controllare l'attacco della baionetta perché è possibile che ci sia dello sporco un accumulo di qualcosa o della condensa anche da quella parte. Ok stiamo passando dai problemi di facile soluzione dai problemi dove è sufficiente un nostro intervento e un minimo di ragionamento a problemi dove invece è necessario proprio mettere mano. Siamo arrivati al sensore. Il nostro sensore infatti può presentare macchie di sporco, chicchi di polvere, condensa. Sono tutti problemi che vanno poi ovviamente a influire sulla resa delle nostre immagini. Se non abbiamo un sensore in perfetto stato sarà pressoché impossibile portare a casa delle immagini decenti. Quindi la prima cosa da fare ovviamente avere cura della propria strumentazione e non lasciarla nella polvere, tenerla al chiuso, tenerla pulita, pulirla dopo qualche utilizzo e stare attenti che non si formino depositi di polvere, condensa, umidità o altre cose sul nostro sensore. Qui stiamo passando a un livello tecnico un po' superiore perché se per tutto quello che abbiamo visto fin qui era sufficiente modificare due impostazioni o al limite passare un panno asciutto sul frontale dell'obiettivo, la pulizia del sensore è un'operazione un pochino più complessa che se fatta nella maniera errata può addirittura portare a un danno permanente al nostro dispositivo. Ecco perché da questo momento in poi per la risoluzione dei problemi vi consiglio di non farlo da soli ma di affidarvi a chi lo sa fare come può essere un service dedicato, come può essere l'assistenza della casa madre del vostro dispositivo o come può essere una persona di vostra fiducia che lo sa fare perché l'ha già fatto. Proseguiamo e aumentiamo la difficoltà perché se un sensore da pulire presenta un certo tipo di rischio una lente scalibrata ne presenta decisamente degli altri. Ora io non so calibrare una lente non ho mai calibrato una lente in vita mia perché non ne ho mai avuto bisogno tutte le lenti che ho preso tutte canon originali non hanno mai avuto problemi di calibrazione quindi questo è un procedimento che non ho mai dovuto fare se anche mi fosse capitato non mi sarei messo a farlo da solo perché a questo punto io credo che ognuno debba fare il proprio mestiere. Chiaramente il mio amico Luca che fa il pasticcere non viene da me a chiedermi dei bignè proprio come io non vado da lui a chiedergli delle fotografie ognuno di noi sa fare quello che sa fare e quindi io credo che quando è necessario un intervento tecnico di questo tipo bisogna affidarsi a qualcuno che lo faccia di mestiere perché lo farà meglio di me che lo devo fare una volta sola per necessità improvvisa per cui in questi casi mi raccomando rivolgetevi a qualcuno competente. Ovviamente è possibile calibrare la lente anche in autonomia esistono dei device delle guide online però siamo un pochino nell'ambito del fai da te siamo nell'ambito in cui ci mettiamo nella condizione di danneggiare la nostra strumentazione e di sentirci poi anche dire che non è più in garanzia perché l'abbiamo manomessa con le nostre mani quindi attenzione quando pulite sensori o calibrate lenti. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra classifica e qui troviamo ovviamente e purtroppo troviamo un danno fisico alla lente o al corpo macchina ovviamente in presenza di un danno fisico abbiamo dei problemi di messa a fuoco perché c'è un qualcosa che impedisce al nostro device di funzionare correttamente ovviamente come già detto in precedenza quando ci troviamo in presenza di un danno fisico all'hardware è assolutamente essenziale che non interveniamo da soli ma che riportiamo il prodotto dove l'abbiamo acquistato sperando che sia ancora in garanzia e chiediamo di essere risarciti per un prodotto malfunzionante in partenza oppure chiediamo la riparazione o la sostituzione se siamo ancora in garanzia. A pari merito con il danno fisico alla nostra lente mettiamo anche il danno fisico al sensore perché come detto in precedenza è vero che noi possiamo pulire il nostro sensore in autonomia ma se lo facciamo nella maniera errata se utilizziamo qualcosa di inadeguato a pulire la superficie del nostro sensore che è una superficie particolarmente delicata ecco che andiamo a infliggere un danno permanente al nostro sensore si sente spesso parlare di macchine fotografiche buttate via per una pulizia scorretta del sensore ebbene questa cosa è vera nel senso che è possibile danneggiare gravemente il sensore con una manutenzione errata quindi bisogna stare molto attenti a queste cose se non lo sapete fare affidatevi a qualcuno che lo sa fare fatevi spiegare come si fa da qualcuno che l'ha già fatto io la prima volta che l'ho dovuto fare ho chiesto a una persona che era capace di farlo mi ha fatto vedere come si faceva così uno impara e non commette quell'errore ovviamente qui stiamo parlando di scenari abbastanza apocalittici perché con un danno al sensore o con un danno meccanico alla lente stiamo parlando fondamentalmente di un pezzo danneggiato al di là di ogni possibilità di riparazione al di là di ogni possibilità economica di riparazione perché nel momento in cui io devo sostituire un sensore mi viene a costare così tanto che probabilmente mi conviene acquistare una fotocamera nuova nel momento in cui io devo andare a intervenire meccanicamente su una lente è possibile che mi costi la metà del prezzo originario della lente quindi quasi non conviene più perché comunque un prodotto revisionato ha comunque subito un trauma c'è comunque stata messa a mano quindi molte volte non conviene neanche investire sulla riparazione di un qualcosa che è danneggiato fino a questo punto ovviamente augurandomi che tutto questo non debba mai succedere a voi che guardando questo video a questo punto io vi chiedo troviamoci nei commenti e raccontatemi se qualcuna di queste problematiche è stata riscontrata sui vostri device se ce ne sono altre di cui io non ho parlato come le avete risolte eventualmente se avete trovato dei workaround di cui io non ho parlato vi aspetto nei commenti e signori io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao